C'è un mare di roda. E poi non associate mai allo zucchero il concetto dolce. Zucchero è dolce, no. Questo è l'agenzia odiosa. E' lo zucchero amaro dell'agenziata. Questo è amaro come fiega. I zuccheri sono dolci? No, non è vero. Ce ne sono più amari quando ne vogliono. Le proteine. I peptidi, questa è la vicina. I peptidi, tra l'altro, è una famiglia. Dicono che il futuro della medicina sta nelle sostanze proteiche. Nei peptidi. Perché sicuramente sono le strutture peptidiche. La più affine è l'organismo dell'animale. Noi abbiamo proteine quando ne vogliamo sequenze proteiche, quando ne vogliamo sequenze aminocini. Allora, l'interazione fra una sostanza a struttura peptidica peptidica è in un organismo e quasi similità. Ricorda? E qui si può fare, probabilmente, e voi vedete, come vedete, come si chiama la morfina? Sapete perfettamente come funziona. La morfina è un caso quasi unico nel mondo dei vegetali. Potente come la morfina, non c'è quasi niente, tranne ci sono due o tre peptidi che hanno provato, alcuni hanno fatto. Cioè, l'effetto della morfina si riesce a riprodurre con un peptidico. Per dire quanto è importante il livello dell'attività. E l'ultimo, qual è? Eccolo qua. No, siamo alberati a prima. Perfetto, è eccezionale, questo tipo qua. Fungo al funghetto, va? Insomma, finisce l'ospedale. Questo che è il zucchero che ho messo? A vero, l'altro discorso, ricordate che lo zucchero è sempre il dolce cosa. Gli acidi nucleici sono zuccheri. Il nocciolo strutturale. Queste sono le basi. Ma la sequenza dell'acido sono zuccheri, lo posso fare, zuccheri, lo posso fare, quello che crea è il filo. Le basi sono le informazioni, ma il filo sono gli zuccheri. Vediamo. Il secondo uno sarà ancora peggio. Avete domande? Fateci, avete 4 minuti virgola 2 per fare domande. via. Questo qua te lo lascio, se ti ho scritto. Se vuoi fare, faccio le fotocopie, le do. Le fotocopie di queste diapositive mie, dell'unico, eccetera, eccetera, scrivete, please, le vostre mail, che ve ne vediamo by mail, che non c'è il by mail, nel vostro foglio di istruzione, avete scritto le mail, sì. Ma è di automatico, le mandano gli automatici? No, che tomane, magari, automatico, dovrei avere una tipologia che mi aiuta, di tipo bilioso, poi vi spiegherò, non avendola, non avendola, in istruzione, è un po' più complicato. Guarda, la mia sonora... Le mando, e se non ce l'ha, dovrei fare le fotocopie, guarda. Tornato, sono 3,000, 3,000, 3,000, no, 3,000, no, è un piccolo, che fa il mio, devo dare anche il tuo. Piccolo? Non è un po' poco, intanto non c'è più pure, poca roba. Devo puoi dare anche un po' un po' poco,